Gwendalina Tavassi dopo aver ufficializzato la nuova relazione con Federico Perna a Mykonos è arrivata a Venezia per la prima uscita pubblica ufficiale con il nuovo compagno. La 35enne dopo la separazione dal malito Umberto da Ponte da cui ha avuto i figli Chloe e Salvatore è felicissima accanto al suo Federico e non si nasconde più, anzi. Grazie per la visione!